Gabigol è diventato un caso anche al Benfica prima era l'Inter che non lo faceva mai giocare o perlomeno giocava pochissimo poi è andato al Benfica, ha fatto quei 5-10 minuti qualche volta non ha mai giocato e sembra che adesso l'allenatore non lo convocherà nemmeno più fino a gennaio quando si riaprì al mercato dove lui o ritornerà all'Inter oppure Ausilio e gli altri cercheranno una nuova destinazione, un altro prestito sperando che possa far bene per poi tornare all'Inter ma io ci credo veramente poco allora cosa è successo? l'Inter ha acquistato Gabigol dal salto, se tutti lo sappiamo pagato 30 milioni, grandi prospettive presentazione alla Ronaldo, anzi meglio di Ronaldo l'hanno presentato perché sembrava che è arrivato appunto un altro fenomeno poi comincia la stagione, Gabigol prima panchina fa subito l'esordio contro il Bologna, ovviamente fa vedere pochissimo perché gioca quasi niente e poi da lì non gioca più cambia allenatore, va via De Bordi, ma forse era De Bordi che non lo faceva giocare arriva Pioli e non gioca nemmeno con Pioli o perlomeno fa pochissimi minuti anzi forse è l'unico che lo fa giocare un po' di più all'inizio appena arrivato infatti Gabigol segna il suo primo gol in Serie A contro il Bologna dove risolve anche la partita con l'Inter dove anche Ronaldo mi sembra che ai tempi segna il suo primo gol in Serie A contro il Bologna con la maglia dell'Inter quindi già di lì sembrava oddio il nuovo fenomeno già da quel gol poi da lì capi gol, dà il gol che ha fatto quindi dici ma dai proviamolo ha segnato, non gioca più non vede più il campo da lì non vede proprio più il campo perlomeno due minuti cinque minuti, dieci minuti non di più cambia allenatore vecchi, nemmeno vecchi lo fa giocare, insomma non lo fa giocare nessuno si apre il mercato io con Spalletti pensavo e speravo che rimanesse anche perché raga io più che altro l'abbiamo pagato tanto, cioè puntiamoci un po' e invece no, l'abbiamo mandato in prestito al Benfica cosa è successo al Benfica? lo fa giocare quei cinque minuti in Champions dieci minuti, cinque minuti in campionato due minuti, mi sembra che ha fatto un bel gol ma un gol in Coppa del Portogallo contro la squadra di Serie C tra l'altro un bel gol e anche a di lì, zero lui segna, lo mettono in panchina sempre anzi adesso addirittura l'allenatore lo ha messo fuori rosa, credo pure non lo convocherà più quindi adesso che succederà? che a gennaio, da quanto dicono i giornali e i media lui tornerà all'Inter oppure gli cercherà una nuova destinazione e si ripete un'altra volta la storia di Gabigol questo fenomeno che non è mai esploso vi dico il mio pensiero Gabi non posso dirvi che è scarso non posso dirvi che è forte molti dicono se De Boer non ci ha creduto se Pioli non ci ha creduto se Vecchi non ci ha creduto se non ci ha creduto Spalletti se non ci ha creduto nemmeno allenatore del Benfica e non mi ricordo chi è vuol dire che non sarà tutta questa forza io vi posso dire avete ragione raga, ci avete ragione punto però adesso vi dico anche un'altra cosa guardate Gerson della Roma cioè non lo faceva giocare nessuno Spalletti non lo vedeva per niente hanno ammazzato Sabatini che dicevano non capisci niente ma che giocatore ci hai preso ma chi è Gerson è una pippa clamorosa adesso con Di Francesco ha fatto doppietta contro la Fiorentina giocando benissimo gioca benissimo pure le partite che non segna anzi adesso forse secondo me giocherà a titolare sempre Di Francesco l'ha provato ci crede e sta dimostrando le sue potenzialità quindi perché non provare Gabigol forse è uno spacca spogliatoio raga non lo sappiamo non possiamo dire se voi nei commenti è uno spacca spogliatoio perché ve lo immaginate voi non lo potete sapere a meno che avete delle fonti vicine a Gabi o a chi è l'agente di Gabigol almeno ma io non ho queste informazioni penso che non ce n'ha nessuno su Youtube raga non ci crede a quelli che fanno sti video perché non è vero niente lo fanno solo per prendere visualizzazioni e comunque è questa la situazione Gabigol Gabigol è diventato un caso anche al Benfica adesso vedremo come andrà a finire vedremo che fine farà Gabi e raga io spero che prima o poi questo ragazzo esploderà perché è stato pagato tanto magari all'Inter magari io ci spero preghiamo tutti insieme Spalletti sappiamo tutti che nei giovani non ci ha mai creduto nella sua storia mai ma questo non gli do una colpa a me se mi fa arrivare a fare i primi tre posti può pure far giocare il 45enne di turno non c'è problema e io vi saluto qui da Smatte è tutto lasciate un mi piace un commento in iscrizione al canale se non l'avete fatta fatemi sapere cosa pensate di questa situazione di Gabi chi non se sa che fine farà pure questa volta qui da Smatte è tutto bella